Quando ho compiuto nove anni, mio padre mi ha fatto due regali, una camicia e una chitarra. Ho sempre pensato che era l'unico amico che avevo. Amico vero, intendo. Ti sei pettinato? Wow, che bello. Liscio, liscio. Studio line. A me mi sembra strano, è questa. A tutti sono strano, anche io sono strano, pure tu, anche tua moglie. Dov'è mio figlio? Eh? È la madre, e fatteglielo almeno salutare, no? Te la posso fare una domanda? Ma mamma, come sta? Tu mi devi dire che cosa vuoi fare con questo bambino, eh? Io a mio figlio non lo riporto indietro, hai capito? Ma allora sei matta davvero? Io volevo solo una famiglia. E facciano? Mi siamo messi in un casino, lo sai? Ma sei sicuro? Ma sei sicuro, siamo davvero l'unica cosa senza tarrere la mia vita.